Secondo me quello che sto per dirti valeva un video parte e riguarda quella che potremmo chiamare la dipendenza psicologica da inibitori di pompa protonica, ma se dovessimo dargli un nome scientifico sarebbe l'effetto rebound che potremmo anche descrivere come effetto boomerang. Sicuramente tu o chiunque altro abbia mai avuto a che fare con gli psicofarmaci sa che mai uno psicofarmaco deve essere sospeso exabrupto di botto in maniera acuta, ma deve essere fatto in maniera cronomodulata, perché tutti questi farmaci hanno il cosiddetto effetto rebound o effetto boomerang. La stessa cosa si può dire dell'inibitore di pompa protonica. Ho conosciuto parecchie centinaia di persone, magari tu sei una tra quelle, che nel momento in cui ha tentato a sospendere il gastroprotettore ha avuto nell'arco di un paio di giorni, uno o due giorni, il ritorno acuto di tutti i sintomi che aveva prima della somministrazione di questo farmaco. Quindi questo piccolo video è un modo per darti una spiegazione del perché. È chiaro che la dipendenza psicologica è la prima cosa a cui pensa, perché chi soffre di malattie dare flusso e quindi ha l'acido che viaggia tra la bocca dello stomaco e la gola, non vive una qualità di vita buona e soprattutto gravata dal fatto di non potersi godere la scena o i momenti piacevoli con gli amici, con i familiari o con il partner. Quindi di solito questa è una delle prime indicazioni all'utilizzo di un inibitore di pompa protonica. Come funziona l'inibitore di pompa protonica a livello chimico e perché si manifesta l'effetto rebound? Come avevo spiegato in un altro video, le cellule dello stomaco quando si legano con l'inibitore di pompa protonica si legano in maniera irreversibile. È un po' come se avessero per tutta la loro vita questa cuffia che gli impedisce di ricevere l'ordine dal cervello di produrre acido, perché per il cervello è importante che si mantenga un certo grado di acido nello stomaco, il cervello quindi percepisce la presenza e la produzione di acido e la regola, ovvero manda il suo messaggero per la sua produzione che si chiama gastrina. Quindi nel momento in cui le cellule dello stomaco hanno queste cuffie che gli impediscono di sentire il messaggio della gastrina mandato dal cervello, l'acido non viene prodotto e ti dicevo che questo legame tra il gastroprotettore e le cellule è irreversibile fino a che queste cellule non muoiono. Le cellule dell'esofago, quelle dello stomaco e quelle del duodeno sono quelle considerate a più alto turnover, che in medichese vuol dire che sono quelle che muoiono più velocemente delle altre per essere sostituite. Il fatto che muoiono così velocemente fa parte del meccanismo di protezione della mucosa di quella parte del tubo digerente rispetto alla grande acidità che si trova nello stomaco e all'alcalinità che invece si trova nel duodeno. Quindi queste cellule come meccanismo di protezione vivono mediamente tra i due e i cinque giorni, muoiono e vengono immediatamente sostituite da cellule sane che si trovano nello strato più profondo della mucosa. Quindi che cosa succede nel momento in cui viene interrotto di botto l'inibitore di pompa protonica? Sono due le cose che possono succedere, una delle quali è che il livello di gastrina prodotto dal cervello per fare produrre acido alle cellule, se la somministrazione di un gastroprotettore è per mesi o per anni, il livello della gastrina potrebbe essere molto alto e quindi arrivare alle cellule neonate, quelle che ovviamente nascono prive di queste cuffie perché non sono più esposte all'inibitore di pompa protonica e allora queste cellule recepiscono il segnale della gastrina e iperproducono acido. Questo è quello che succede nella normalità, perché poi il paziente sente molto di più il problema? Perché il paziente soffre di questo acido? A parte che l'acido comunque fa soffrire tutti, se almeno una volta nella vita hai avuto una botta d'acido, sai di che cosa parlo. Il primo caso è che bisogna considerare che probabilmente c'è una situazione di non funzionamento del cardias. Il cardias, come spiegavo nell'altro video, che è questo sfintere, come l'ano, che chiude, che separa lo stomaco dall'esofago potrebbe essere o non perfettamente funzionante o lievemente dislocato verso l'alto e poter rappresentare per esempio il motivo per cui è stato somministrato l'inibitore di pompa protonica. Quindi togli l'inibitore di pompa protonica ma non lavori né sul cardias né sulla sua posizione, quindi vuol dire che non hai lavorato sulle cause prime che hanno generato il reflusso. Questo può essere una. L'altra può essere una ipersensibilità all'acido in quanto dopo tanto tanto tempo che il paziente non è stato esposto, ritornare a quello stato a un doppio impatto, quello della sensibilità della mucosa ma anche quello della paura psicologica di essere tornati nell'incubo di una sensazione di acido costantemente presente. Questo effetto rebound non vuol dire che il paziente è dipendente dal farmaco perché spesso questa è la prima considerazione che viene, cioè io dico a me stesso aver tolto il farmaco mi ha provocato quei sintomi quindi io devo riprendere quel farmaco. In effetti questa è la prima considerazione purtroppo nel mondo medico può succedere che questa spiegazione venga riverberata senza spiegare qual è il meccanismo farmacologico e biochimico. Ma se vogliamo dare una spiegazione a tutto questo la verità è che quel farmaco stava lavorando su un sintomo, questo sintomo era il passaggio di acido dallo stomaco verso l'esofago e nel momento in cui ho smesso o interrotto il farmaco che lavorava su quel sintomo comunque le cause si sono manifestate nuovamente. Quindi vuol dire se vuoi in ultima analisi che avevi utilizzato quel farmaco solo ed esclusivamente con effetto sintomatico. E diciamoci la verità è possibile pure che i sintomi durano per un breve periodo e che prendere l'inibitore di pompa protonica possa anche andare bene ma prenderlo a vita con tutti gli effetti colaterali, ne abbiamo parlato nel video precedente, sinceramente è un rischio che va valutato in maniera molto attenta perché poi il rischio che venga qualcos'altro e che magari sia peggio della percezione dell'acido. Quello che io consiglio ai pazienti in generale se il problema è di un Cardias non perfettamente funzionante che la funzionalità del Cardias o la presenza di un'ernia iatale può anche essere vista con una radiografia col bario senza bisogno di farsi una gastroscopia. Tra l'altro la radiografia col bario, vedendo tutto il torace, vedendo il torace e le ossa, permette di vedere a livello meccanico quali sono gli elementi che influenzano la presenza del reflusso. secondo